bene ragazzi bento di play in questo nuovo video questo qui il 26 episodio di troverò l'art of player oggi abbiamo l'artwork di icardi immobile e belotti qui abbiamo rinaldo sempre che ci porta fortuna almeno si spera sono usciti i plus ok raga apriamolo e nel mentre vi ricordo che ogni giorno alle due esce un nuovo nuovo video ma stiamo scherzando di già sì questi pacchetti sono plus quindi l'allenatore lo mettiamo qua ci giriamo queste tre carte che sono destro tra ore extenderla che top plus top plus bello allenatore vediamo che allenatore è maran del cagliari plus ovviamente 1 2 2 5 cioè vabbè pure io 1 2 2 mettiamolo qua vediamo il centrocampista che è radovanovic idolo del chiavo verona vediamo chi è il difensore mamma mia plus 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 muro d'acciaio e del milano plus ho finito i muri d'acciaio cioè prima le avevo finiti adesso li devo ritrovare perché non so quelli che sono usciti i muri d'acciaio comunque muro d'acciaio del milano 96 difesa 80 72 sono è bello perché comunque possiamo dire che l'allenatore possiamo dire possiamo considerare la rara quindi un tre un tre rare ci stanno quindi raga se vi è piaciuto iscrivetevi al canale con i vieti noi ci vediamo domani dopo un altro episodio troverò un altro player ciao 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 ciao